E con grande piacere personale prima ancora che invece dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana che sono qui per dare il benvenuto a tutti in occasione della presentazione del libro Alfredo Reiklin Una vita, volume curato da Mariuccia Salvati e con un contributo di Amarsia Sen. Una vita, quella di Reiklin, che è la vita di un grande intellettuale politico italiano la cui lunga e intensa esperienza personale abbiamo visto per decenni intrecciarsi con la vita pubblica del Paese. E in questo libro che presentiamo e da cui prenderà le mosse la nostra discussione è il lungo racconto di alcune, le più significative direi di queste esperienze a essere il fil rouge della scelta che noi abbiamo fatto. Non è una biografia come scrive Giuliano Amato nell'introduzione ma è la volontà di cogliere l'importanza del contributo di Reiklin alla storia, alla politica e alla cultura. Ma anche come scrive Mariuccia Salvati che di questo volume, come ho detto, è stata l'attente e scupolosa curatrice e il tentativo di approfondire un'esperienza che lo stesso Reiklin ha indicato che è quella di condurre una riflessione pubblica sulla propria biografia, collocandola in un contesto storico, in un'epoca in cui egli stesso ci ha indicato come fosse definitivamente conclusa. È una ricostruzione, scrive ancora Mariuccia Salvati, che vuole essere una testimonianza quasi di gratitudine, oltre che di riconoscimento, nei confronti del partito e dei moltissimi compagni con cui Alfredo ebbe la fortuna di vivere, di condividere passioni, speranze, dubbi e contrasti. Ciò che credo colpirà più il lettore di queste pagine è l'immagine mutata nei tratti essenziali che ci appare di Alfredo, sempre solido nel suo rigore analitico, fedele a quell'idea alta di politica che aveva fatto sempre sua e che applicava ad ogni dimensione dell'attività pubblica. Colpisce notare come sin dai primi anni della sua formazione politica fino agli ultimi della sua vita, alcuni dei quali trascorsi, devo dire, con il nostro grandissimo piacere proprio in queste stanze, l'attività intellettuale di Reiklin sia sempre stata indirizzata verso la comprensione profonda delle dinamiche del tempo presente. E tutto questo per immaginare, preparare e governare, come ci diceva, il futuro. Una lettura capace di non sottrarsi mai alle sfide del tempo, quel tempo che si trovava a vivere Alfredo, con una propensione, quasi una naturale tendenza a proiettare un percorso lungo ed esigeva che la politica, quella alta, come diceva, avesse come punto di riferimento esattamente questo, la capacità di avere visione, di guardare più avanti. E di grande lucidità e lungimiranza la riflessione di Reiklin, ad esempio, sulla globalizzazione, proprio per come essa si è andata realizzando e per quelli che sono stati i suoi effetti sociali più nefasti. Una riflessione che chiamava in causa la storia della sinistra italiana degli anni 90, la sua difficoltà nel leggere l'evoluzione dei rapporti di forza a livello globale e il mutamento in atto nei paradigmi interpretativi. La riflessione di Alfredo, proprio su questo tema, partiva da lontano dall'analisi delle dinamiche economiche internazionali della seconda metà degli anni 70 e dei primi anni 80, quando Reiklin già segnalava, come ricorda giustamente Luigi Masella nel suo contributo, i rischi per l'economia italiana di un'internazionalizzazione dell'economia, della scomposizione di figure e relazioni sociali, della disarticolazione dei rapporti fra i territori e le loro economie. Di quell'intreccio fra internazionalizzazione progressiva dell'economia e crisi del fordismo. Ed era capace di lanciare un allarme proprio per una crisi di quello che definisce il capitalismo italiano, incapace di produrre quei macchinari, quelle tecnologie, quelle sinergie e quelle conoscenze di cui non potrà fare a meno per stare sui mercati e che quindi dovremo acquistare sempre di più all'estero. Tre sono gli aspetti principali del pensiero e della prassi politica di Alfredo che mi sono sempre stati particolarmente cari e in molte occasioni mi hanno dato interessanti punti di riflessione. Il primo è quello che riguarda il ruolo degli intellettuali nel rapporto della sinistra con le masse popolari, si sarebbe detto un tempo, con il paese reale si potrebbe dire oggi. Lui stesso fu uno di quei giovani colti che Togliatti volle nel partito per rifondarlo e per guidare la lotta politica. Significativo del resto è stato il modo in cui Alfredo ha declinato questo ruolo durante gli anni trascorsi alla guida del PC pugliese e altrettanto significativo è stato il contributo dato alla sua sprovincializzazione e alla valorizzazione delle classe dirigente politica e intellettuale di quella terra. Terra a cui era legatissimo. Il secondo aspetto riguarda l'attenzione di Alfredo al mondo dei giovani, alle nuove generazioni come continuamente mi ripeteva, alle spinte che le animano e in cui riusciva a intravedere proprio le chiavi per capire il futuro, il nostro futuro. Che si trattasse del tentativo di includere studenti e giovani generazioni al fianco di operai e contadini nella costruzione di quel blocco sociale dal quale far ripartire il riscatto del sud negli anni settanta o, come è avvenuto fino a poco tempo fa qui in Treccani, la sua volontà di riunire intorno a un tavolo le giovani menti più brillanti e attive per cercare di ricostruire quello che lui definiva un nuovo pensiero politico per la sinistra in Italia. L'attenzione di Alfredo per i giovani era costante e la fiducia per loro incrollabile. Sono loro che ci aiuteranno a uscire da questa crisi, sono loro a cui dobbiamo affidare il Paese, mi ripeteva continuamente. Vi era infine l'attenzione verso ciò che avviene davvero nella realtà, un desiderio di conoscere, con una conoscenza intellettuale ma anche partecipata, per conoscere quelle grandi trasformazioni del Paese, quelle politico, economico, sociali ma anche quelle della cultura. Come direttore dell'Unità si posi il problema di aprire il giornale, di aprirlo davvero, quello che era un severo giornale di partito, come scriveva, quello che era un giornale di un partito del popolo e di aprirlo a una cultura di massa, di una società industriale avanzata. Con rigore intellettuale e politico Alfredo si interrogava su come poter parlare a tutti, su come cogliere e intercettare le tante spine che animavano la società e i molteplici linguaggi in cui essa si esprimeva. Fu quello di fare del giornale sempre meno un altoparlante di parole d'ordine prestabilite e sempre più un mediatore attivo tra l'indirizzo generale del partito e la realtà delle masse. Fu questo il tentativo che forse non so se gli riuscì del tutto, ma che sicuramente fu uno dei suoi principali obiettivi. Già allora, agli inizi degli anni Sessanta, aveva colto, credo, la necessità di colmare anche attraverso i canali della comunicazione una distanza fra la classe dirigente e il popolo, fra i governanti e i governati, la cui separazione mi pare sia uno dei grandi problemi che ancora assilano la politica del nostro tempo. Vorrei concludere questo saluto leggendo alcune parole di Alfredo, prese dal filmato proiettato a chiusura dello spettacolo Il silenzio dei comunisti, che occupa giustamente una parte di questo libro. Dice Alfredo Di fronte a questi cambiamenti è necessario mettere in campo non solo idee, ma strumenti politici forti e istituzioni forti che siano in grado di governare questo mondo nuovo. Non tanto strumenti di potere, quanto strumenti di lotta per nuovi bisogni e nuovi beni di libertà e di giustizia. Quello che è accaduto in questi anni è molto grave. La politica, la polis, la capacità del commerciante, dell'operaio, del professore di guardare al di là del suo interesse immediato per farsi cittadino e pensare all'interesse generale è stata ridotta a forza subalterna di un sistema economico, finanziario globale. All'interno di questo sistema la politica è diventata nulla, più che un sottosistema specializzato la cui funzione si riduce a costruire quel minimo di integrazione politica ideale che è necessaria per impedire la disintegrazione dello spazio sociale. Come dice quel tale è cambiata la divisione dei compiti. I mercati governano, i tecnici amministrano, i politici vanno in televisione. Mi sembravano parole importanti, mi sembrano parole importanti e con questo ringrazio tutti voi, ringrazio chi discuterà il libro e darei parola a Lucia Annunziata. Grazie, inizio questa presentazione di questo libro con una qualche commozione ma anche tantissima difficoltà. Io sono della generazione a cui Alfredo Leich mi faceva tutto sommato paura insomma, nel 77 ero tra lei ride, Roberta. Faccio parte, diciamo, la mia vera parte del 68, il mio vero atto forte di militanza politica fu il 77. Gli anni 70 diciamo e non c'è dubbio che il ruolo di Reiklin in quel periodo, soprattutto giustamente come direttore dell'unità perché questo libro lo presenta in molti aspetti, è un convendio di tutti i passaggi del Partito Comunista eccetera, però sicuramente diciamo l'unità è stato un momento molto forte della sua vita e sicuramente ebbe un ruolo molto forte in quel periodo da il 77 e poi nel discutere tutta la crisi dell'epoca, sì forse devo stare più vicino, sì 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 sì, nel discutere come dire il terrorismo ma soprattutto come dire nell'essere secondo me il primo accogliere che quel periodo lì fu in realtà tra il 75 e il 79 anche elettoralmente un passaggio in cui il PC perse non tanto un peso nella realtà italiana quanto perse secondo me la capacità un po' di cominciare a leggere la crisi per certi versi, mentre invece fu molto consapevole come direttore dell'unità del nuovo universo mediatico che si muoveva intorno a lui. Non ultimo l'arrivo di Repubblica nel 76 che diede un colpo alla supremazia diciamo del pensiero comunista in termini mediatici, l'unità fino a quel momento era il grande discorso nazionale, da Repubblica in poi cambiò diciamo e perlomeno anche in termini mediatici divenne per l'unità la capacità di dover far battaglia in prima fila laddove i media comunisti da come me li ricordo io anche se sono sempre stati molto importanti venivano sempre un passo indietro rispetto a quello che diceva il partito comunista. Gli anni 70 diventano diciamo il passaggio in cui l'intelligenza comunista attraverso i vari media insomma no che sono i mass media in generale, i giornali, il ruolo dell'unità anche più legati alla partecipazione immediata della lettura del loro lavoro nella società italiana e lì secondo me viene fuori anche un po' la sua, la difficoltà del partito comunista, io non sono mai stata il partito comunista quindi se ci sono letture sbagliate sappiate che sono letture perché vengono dall'esterno insomma quindi quello per l'appunto un momento in cui il partito comunista doverte aprirsi e l'unità ripeto fu un momento molto importante. Proprio all'inizio del libro c'è un punto viene dato, questo è un passaggio molto bello, è stato recuperato una relazione in cui il giovane Reiklin parla di se stesso per applicare l'entrata del partito, racconta la sua storia prima, diciamo la relazione è data 46 e lui racconta la sua storia così come un giovane romano che si è formato insomma negli ultimi anni della guerra, nel periodo appunto dell'antifascismo eccetera e poi parla e dice da allora la mia vita è mutata radicalmente, parla del 25 aprile dopo il 25 aprile decisi abbandonare la normale vita di partito, era infatti segretario della cellula di piazza quadrata della sezione salario e accettai di lavorare all'unità e così descrive la sua storia all'unità dice da allora la mia vita è mutata radicalmente nel senso che fin dall'inizio, debbo moltissimo in grau per questo mi sono mosso sul terreno del nesso dialettico tra i miei problemi, quelli del mio lavoro e quelli politici generali anche in qua c'è secondo me, anche in questa relazione c'è secondo me qualcosa di nuovo perlomeno per come io ho sempre immaginato addirittura in quel periodo le priorità di un militante del partito comunista sono tre priorità uguali i miei problemi, quelli del mio lavoro e quelli politici generali non ci sono solo i comunisti, la militanza e i problemi politici generali, c'è una centralità del tutto piena di legittimazione della persona questo è uno dei tratti della modernità naturalmente di Reichlin nel libro viene sottolineato moltissimo, secondo me è uno dei passaggi più interessanti proprio dell'inizio è la definizione di lui come un vecchio comunista ma legato più al Marx umanista il Marx umanista per me e per le letture dell'epoca e della mia formazione intellettuale da allora si traduceva nel Marx degli scritti giovanili e all'epoca se vi ricordate c'era una vasta separazione tra il Marx dei Grundris e gli scritti giovanili noi andavamo in campeggio e leggevamo gli scritti giovanili mi ricordo i campeggi esoticissimi in Calabria insomma ecco in quel periodo motocicletta e una sera si leggeva intorno al fuoco scritti giovanili di Carlo Marx allora lui diventa se mi permettete vorrei anche come vedete io non scrivo i testi perché poi i testi letti fanno sempre un po' schifo diciamoci la verità si preparano però poi sono sempre è una guerra preventiva questa perché tutti si sono preparati e ho fatto solo le note allora volevo dire un'altra cosa il libro nel suo insieme è un libro molto interessante perché ve ne andate va bene io posso tenere proprio perché vado a braccio le prossime due ore insomma scusa vado tutto il tempo a parlare pare che non sono in grado allora il punto è questo nel libro c'è secondo me una cosa adesso mi odierete per dirla c'è questo senso un po' oppressivo anche l'oggetto di tutto quanto di questo partito comunista che viveva solo con se stesso cioè una cosa molto i comunisti vivevano del partito comunista col partito comunista sul partito comunista cioè c'è tutta la storia in questo libro anche importanti di ruoli nazionali avuti ma come dire con gli occhi in qualche modo rivolti sempre tu facevi fuori per riportare sempre dentro di te quello che tu stavi facendo ripeto io sono questo libro l'ho letto anche con le percezioni di quella che sono stata io cioè una persona che ammirava il partito comunista dentro fuori il papà comunista eccetera eccetera però mai dentro il partito comunista una delle cose che restituisce questo libro è questa forma aristocratica e lo so che è stato usato questo termine per Alfredo aristocratico non solo per il suo apportamento ma anche per le sue origini lui stesso ne ha scritto ne ha parlato eccetera eccetera ma in questo caso non ha a che fare con Alfredo ha a che fare con il senso come dire aristocratico di corpo scelto che i comunisti hanno sempre avuto fino a un certo punto alla fine degli anni 70 e poi purtroppo nel 90 questo fu il colpo finale dopo la caduta del muro hanno avuto di essere l'elite il corpo scelto una classe politica legata non soltanto dal proprio rapporto con il resto del mondo ma proprio legata dal proprio essere uguale nelle scelte nel leggere nel sentirsi allo stesso modo non a caso c'è una bellissima Luciana c'è una bellissima intervista a te che racconta indirettamente questo la grande tragedia che successe quando Luciana Castellina si andò Reiklin era marito erano già separati ma quando a un certo punto dovessero presentare le liste Reiklin disse mi dispiace ci separiamo perché tu nella lista come Reiklin Castellina non ci vai cioè voglio dire era un dettaglio di così come tutto il discorso di Luciana Castellina in questa intervista su come la tragedia che fu uscire o restare o votare il dramma di stare dentro fuori che ha veramente costituito ha fatto del pc un corpo a parte ecco insomma secondo me c'è un racconto non involontario dentro questo libro di questo mondo e poi non so se questo è stato una cosa fortunata o sfortunata per il pc successivo ritorno appunto all'unico e ultimo punto che volevo fare che è questa storia di lui di Reiklin che torna tra il 77 e l'81 direttore dell'unità era stato già direttore dell'unità dal 58 al 62 e torna in una situazione in cui per l'appunto sono stati gli anni più duri il 77 il movimento che aveva come principale scopo la contestazione del pc cioè in una delle giornate più dure del 1977 quelle dopo la morte dello studente di Bologna quello che è marzo del 77 credo sia stato il 19 marzo del 77 Roma fu invasa da diciamo 300 mila si diceva un milione saranno stati 300 mila studenti e lì ebbero inizio i più grandi scontri che Roma abbia mai visto quello che non si racconta anche una volta ho avuto con Walter un discorsino ho detto Walter hai fatto tutto su Berlinguer non hai raccontato che c'erano mezzo milione di studenti contro di lui sotto il bottego scuro il 19 marzo che è una cosa che si tende un po' come dire a edulcorare ecco questa cosa che il pc a quel punto divenne parte dello scontro se non addirittura lo scopo principale dello scontro del pc poi il 78 naturalmente a Domoro le elezioni del 79 che in qualche modo è la prima volta che il pc scende dopo il sorpasso in attesa come cosa e in qualche modo l'entrata in campo di di nuovi media intanto si comincia a parlare in quel periodo di mass media e Alfredo ne parla varie volte di mass media poi arriva Repubblica nel 76 è arrivato Repubblica che è un giornale che pretende di occupare lo spazio politico dei comunisti e si forma esso stesso dentro lo stesso discorso politico che in quel periodo forma l'opinione pubblica italiana che è il governo cosa fare con il governo di unità nazionale cosa fare diciamo in rapporto alla trattativa con i terroristi il discorso all'epoca su chi fossero i terroristi e poi se volete il passaggio ci sono tutti questi passaggi qui sono assolutamente molto precisi e diventa il terreno come dire di scontro su l'interpretazione della nuova società c'è un pezzo del partito che dice per l'appunto che sono che sono dei provocatori prima il discorso centrale di questa roba dal 77 in poi è che sono i provocatori Reiklin si pone invece molto presto su un altro tipo di dibattito un altro tipo proprio di china e la china è dire non sono provocatori non sono diciamo animati dalla destra o sono schegge impazzite ma sono persone di sinistra se vi ricordate il partito armato insomma si chiamava e credo che sia stato proprio formulato da lui questo questa frase il partito armato che fa involontariamente la parte diciamo non è manovrato dalla destra ma diventa un elemento di destabilizzazione nazionale di questo viene accusato oscuramente l'intreccio per l'appunto questo intreccio viene oscuramente assegnato all'ADC agli Stati Uniti del ruolo naturalmente di parte dell'ADC eccetera questo che cosa significa significa anche che comincia ad aprirsi dentro per come la vedo io anche oggi il discorso di non dire puramente semplicemente il terrorismo è di destra ma il terrorismo è un elemento magari manovrato dalla destra ma autottono comincia ad aprire secondo me una discussione sulle questioni che a cui la società non risponde in quel periodo perché qual è il problema è un elemento il terrorismo di allora di sinistra è un elemento sociale sociologico viene dalla crisi di capitalismo come si diceva allora del sistema eccetera eccetera cioè il sistema inteso come il capitalismo che crea i nuovi poveri sul territorio eccetera oppure semplicemente parte di una struttura internazionale di guerra e battaglia politica ecco e secondo me Reiklin su questo è il primo che batte un colpo sulla questione del fatto che in Italia ci fossero alcune situazioni alcuni cambiamenti su cui la sinistra non era in grado di ragionare infatti il passo insieme alla riflessione sul partito armato a parte poi tutti i dibattiti con Pifano con Toni Negri la famosa la famosa inchiesta naturalmente su Padova che fece tantissimi fece tantissimi provocò tantissimi articoli e dibattiti io credo che quello che invece è il passaggio che lui coglie in quel momento è il passaggio che lui diceva 30 anni la fine dei 30 anni gloriosi con l'idea che il capitalismo non fosse in grado di superare le contraddizioni in quel momento ma e questo è stato secondo me il punto limite raggiunto a quel punto già all'inizio degli anni 80 del PC la risposta a questa analisi che era giusta era la risposta di dire c'è una crisi il capitalismo non supererà tutto questo e noi saremo il pivò di questa nuova fase avvenne purtroppo che il pivò della nuova fase fu uno sviluppo italiano molto imprevisto o che alcuni avevano previsto e il pallino passò in mano ai socialisti di nuovo e alla DC voglio parlavo e finisco con questo l'attenzione di Reiklin alla questione dei nuovi media a un certo punto lui scrive ed è interessante che anche il partito comunista col 30% era diventato a quel punto un partito di opinione non era più col 30% quello che poteva essere prima e finisce dicendo con un'idea vi leggerò questo e ho finito bisogna resistere al grande tentativo di trasformare la sinistra italiana di lobotomizzare il suo cervello prima di tutto separandola dalla sua storia e così privarla di un etos una coscienza critica e di classe omorogarla trasformarla in un partito all'americana questo è del 79 per l'appunto un partito dell'americana che non ha un progetto che non dirige ma media le spinte degli altri che gli altri provocano la società che rinuncia ad organizzare le masse ma si limita ad influenzarle questo era un passaggio sui mass media in quanto semplice opinione pubblica servendosi dell'ospitalità che le offrono generosamente i mass media i quali in cambio tendono a usare questa sinistra come il terminale progressista di uno stesso sistema in cui essa giochi come pura alternativa rispetto al terminale conservatore ora secondo me l'idea del partito americano e l'idea di diventare parte del gioco dei mass media è purtroppo quello che è successo e devo dire una cosa e qui chiudo la lezione da sinistra non è mai stata imparata perché stiamo appunto a capo a proposito di new media a proposito di crisi editoriali a proposito di incapacità di leggere il peso che si è spostato politicamente sui media e il sistema mass mediatico grazie oh non me l'ero preparata scritto l'ha parlato Tommaso Montanari che leggerà grazie a luce annunziata per questa carbata introduzione sul fatto che gli altri relatori leggeranno a un certo momento gli intellettuali devono essere capaci di trasferire la loro esperienza sul terreno dell'utilità comune ciascuno deve saper prendere il suo posto in una organizzazione di combattimento questo vale soprattutto per l'Italia parlo dell'Italia non perché mi stia più a cuore della Germania o dell'America ma perché gli italiani sono la parte del genere umano con cui mi trovo naturalmente a contatto e su cui posso agire più facilmente gli italiani sono un popolo fiacco profondamente corrotto dalla sua storia recente sempre sul punto di cedere a una aviltà o a una debolezza ma essi continuano a esprimere minoranze rivoluzionarie di primo ordine filosofi e operai che sono l'avanguardia d'Europa l'Italia è nata dal pensiero di pochi intellettuali il risorgimento unico episodio della nostra storia politica è stato lo sforzo di altre minoranze per restituire all'Europa un popolo di africani e di levantini oggi in nessuna nazione civile il distacco fra le possibilità vitali e la condizione attuale è così grande tocca a noi di colmare questo distacco e di dichiarare lo stato d'emergenza musicisti e scrittori dobbiamo rinunciare ai nostri privilegi per contribuire alla liberazione di tutti contrariamente a quanto afferma una frase celebre le rivoluzioni riescono quando le preparano i poeti e i pittori purché i poeti e i pittori sappiano quale deve essere la loro parte vent'anni fa la confusione dominante poteva far prendere sul serio l'impresa di fiume oggi sono riaperte agli italiani tutte le possibilità di risorgimento nessun gesto è inutile purché non sia fine a se stesso quanto a me ti assicuro che l'idea di andare a fare il partigiano in questa stagione mi diverte pochissimo non ho mai apprezzato come ora i pregi della vita civile e ho coscienza di essere un ottimo traduttore un buon diplomatico ma secondo ogni probabilità un mediocre partigiano tuttavia è l'unica possibilità aperta e la accolgo l'avete riconosciuta tutti è la struggente lettera indirizzata al fratello Luigi da Napoli il 28 novembre del 43 con cui Jaime Pintor prende congedo dalla famiglia e dalla vita ed è il passaggio immediatamente successivo a quello ancora più celebre e citato da Alfredo Reichle in innumerevoli volte in cui si parla del destino della loro comune generazione un destino risolto per così dire dalla guerra e dalla necessità della resistenza e su questo Mario Ciasalvati scrive delle pagine illuminanti in questo libro se ho scelto invece proprio quest'altro brano meno citato è perché mi pare che esso contenga tutte le aperture di senso che fanno apparire oggi e per noi preziosi la vita e il pensiero di Reichling naturalmente lo dico dal mio punto di vista che è molto diverso da quello dei due amici che con me oggi prendono la parola e penso da quello della maggior parte di voi un punto di vista eccentrico anche se spero non del tutto illegittimo non sono mai stato comunista e non tanto perché al crollo del muro di Berlino avessi 18 anni quanto perché le mie radici intellettuali e politiche affondano nella tradizione del cristianesimo sociale democratico nel pensiero di Dossetti o Don Lorenzo Milani o in quello liminare e confliggente di figure eccentriche come Simone Veil o ancora nella costellazione di giustizia e libertà dal lusso a Calamandrei a Carlo Levi sono dunque molto grato a Giuliano Amato e a Massimo Brai per la singolare scelta di invitarmi qua stasera dandomi l'occasione di riflettere pubblicamente sulla figura di Reichling quando me l'hanno proposto ho accettato subito con un senso di riconoscenza perché in qualche modo almeno sul piano simbolico avviene così un incontro che non poteva avere luogo una domenica di novembre del 2016 nella tarda mattinata ricevetti una telefonata da un numero fisso di Roma era Reichling che aveva letto e visto alcuni miei interventi nella campagna per il no al referendum costituzionale chiamava per dirmi che ne condivideva appieno lo spirito e che avrebbe voluto conoscermi di persona per parlare mi disse del futuro della sinistra che ci sta così a cuore fu profondamente colpito da questo contatto del tutto inaspettato e soprattutto dalla generosità intellettuale dalla vitalità di questo famoso principe del partito comunista e rimanemmo che ci saremmo presto visti ma le sue condizioni ed iliano molto la sua scomparsa ce lo impedirono avevo molto ammirato l'articolo sull'unità un articolo visibilmente molto sofferto con cui poco più poco più di un mese prima che ci sentissimo Reiklin si era schierato per il no al referendum era un testo breve forte duro e chiaro non era dettato come per altri dall'antipatia pur così comprensibile per l'equivoca figura dell'allora presidente del consiglio ma era il contrario fondato su valori e ragionamenti che avevano attraversato carsicamente tutto il pensiero di Reiklin e che ora affioravano in superficie obbligandolo a prendere parte la determinazione a difendere l'impianto parlamentare della repubblica per esempio e a difendere un'idea di partito che non può essere ridotto sono sue parole a puro servizio del capo e forse più di tutto la preoccupazione l'ansia viscerale per la tenuta della nazione quanto fastidio ha provato Reiklin dai fraintendimenti della sua idea del partito della nazione fraintendimenti non del tutto innocenti quell'uso della parola nazione mi ha sempre fatto venire in mente l'uso della parola patria che ha fatto una figura che viene evocata nel libro che non è priva di punti di contatto con Reiklin che è quella di Carlo Azzerio Ciampi io ricordo da studente della scuola normale a Pisa quando Ciampi presidente venne a darci i diplomi di fine anno e ci disse con la sua ironia livornese voi pensate che io sia un vecchio trombone e noi normalisti insomma sorridevamo sotto i baffi inconsapevolmente e poi ci disse guardate che lo pensate perché io ho recuperato la parola patria la parola della nazione vi racconto un episodio e ci raccontò come il 14 giugno del 40 quando entrò il direttore della normale a Mensa e disse che Parigi era caduta quel direttore era Giovanni Gentile un piccolo gruppo di matricole di normalisti tra i quali c'era Ciampi c'era anche Carlo Smuraglia si alzarono in piedi e cantarono la marsigliese finendo espulsi dalla scuola normale e disse per me in quel momento la patria era la Francia e sono sempre rimasto di quest'idea un'idea mazziniana poco negli stessi mesi Calamadrei scrive nel diario la mia patria la Francia ho trovato un'assonanza in qualche modo nel recupero coraggioso e controcorrente di questo vocabolario e di questo mondo di idee e ha una certa grandezza questa lettera di un Reichlin giunto alla fine della sua vita perché egli si mostra in qualche modo capace di recuperare e attualizzare quei valori e direi ancor più quel tono morale che era appartenuto al giovanissimo Reichlin prima del partito quando nella resistenza romana il punto di riferimento era l'appena più grande Jaime Pintoro e torna dunque in mente quella lettera sul dovere degli intellettuali di combattere che certo si poteva leggere in senso strettamente storico e cioè riferito agli atti eroici al combattimento per nulla figurato dei partigiani ma si poteva anche riferire all'organicità del partito il luogo in cui combattere è il partito o invece intendere proprio al contrario intendendo che il posto di combattimento degli intellettuali fosse la verità il primo compito degli intellettuali ha scritto Bobbio dovrebbe essere quello di impedire che il monopolio della forza diventi anche il monopolio della verità ecco che l'ultimo Reichlin si spoglia di ogni disciplina di partito e torna un intellettuale libero libero anche di schierarsi pubblicamente in nome della verità contro il segretario del partito né si deve immaginare che questa solenne presa di posizione equivalesse ad una posa retorica ad un tronfio prendersi sul serio che riducesse la vita alla dimensione politica la lettera di Pintore è altissima io trovo laddove egli confessa al fratello che davvero avrebbe fatto altro nella vita e quanto gli costasse rinunciare alle sue traduzioni alle poesie e alle ragazze si legge in nuce in queste righe il Reiklin che confesserà con una punta di civetteria di non aver mai rinunciato sono parole sue ai piaceri della vita è il Reiklin ritratto nelle bellissime pagine di Franco Marco Aldi in questo libro un Reiklin apparentemente liminare e minore eppure invece quello che pare più destinato a restare e infine a prendere il sopravvento il Reiklin innamorato da giovani di due poeti impolitici come Rilke e Montale un riccio monoteista laddove il Dio solo è la politica il partito per usare la figura che Marco Aldi ruba ad archiloco che sa però di aver bisogno anche della volpe politeista laddove i molti dei sono i profumi della vita i suoi volti irriducibili a unità felicemente incoerenti e che alla fine attinge a questa luce interiore per riuscire a trovarsi sempre più spesso da ultimo in posizione isolata e critica rispetto a una comunità a cui teneva visceralmente viene in mente una pagina meravigliosa di George Orwell se devi prendere parte a cose del genere politica e potere e penso che tu debba a meno che tu non ne sia impedito dalla vecchiaia dalla stupidità o dall'ipocrisia devi riuscire anche a tenere inviolata una parte di te e ancora non posso e non voglio abbandonare completamente la visione del mondo acquisita nell'infanzia finché sarò vivo e in buona salute continuerò a appassionarmi alla prosa ad amare la superficie della terra a prendere piacere da oggetti solidi e da ritagli di informazioni inutili non c'è modo di sopprimere questa parte di me l'amore per la parte gratuita della vita per le piccole cose di ogni giorno in fondo riesco ancora a guardare al mondo con occhi nuovi animato dall'orrore ma altrettanto animato dalla meraviglia bisogna coltivare fino alla fine dice Orwell dentro di sé la capacità di desiderare follemente le cose che da grandi non si sognano più e che da bambini si sognavano come la giustizia o la libertà se si leggono gli ultimi libri e articoli di Reiklin si manifesta questa parte inviolata e sembra prendere corpo un discorso che in molti credo sentiamo straordinariamente attuale vivo presente non le tante pagine nelle quali inevitabilmente si cercano soluzioni che nessuno ha in tasca alle grandi questioni sul tavolo della politica il rapporto tra democrazia e globalizzazione e quello tra l'economia e la politica stessa per esempio non è qua nell'approccio frontale al che fare per intenderci che si trova ciò che è vivo nel pensiero di Reiklin non nel cosa credo ma invece nella sua crescente preoccupazione per il come uno slittamento evidentissimo nel citato articolo del no quando egli scrive non illudetevi amici che il problema sia chi comanda è invece con chi si comanda con o senza il proprio popolo popolo dico popolo vero non opinione pubblica sono due cose diverse è la partecipazione del popolo italiano alla vita pubblica che è ormai quasi inesistente queste cose vanno dette anche alla sinistra la quale deve ritrovare il senso vero della sua missione che è quello di ridare voce al popolo italiano un passaggio quasi incomprensibile per una classe dirigente divorata dall'ansia del successo personale e dalla scellerata mistica maggioritaria e presidenzialistica del capo un passaggio che sembra debitore del fitto colloquio di Reiklin con un eretico per esempio come Bruno Trentin che fin del 1975 spiegava a Enrico Berlinguer che ciò che gli stava davvero a cuore più della presa del governo era sono parole di Trentin la costruzione di una nuova rete di potere democratico nel tessuto sociale del paese un modo di sentire che è maturato più volte nella nostra storia recente per esempio nella coalizione sociale che Maurizio Landini e Stefano Rodotà hanno provato ad animare che aveva esattamente l'obiettivo che indicava Reiklin costruire un popolo dei diritti che potesse dare vita ad una nuova sinistra oggi vediamo con chiarezza che è solo battendo strade come queste che si può evadere dalla stanza senza porta e senza finestre in cui il discorso pubblico italiano ha murato il futuro della sinistra politica quella in cui per esistere politicamente bisogna fondare un partito candidarsi alle elezioni cercare di andare al governo messa in questi termini forzati la sinistra che non c'è non ci sarà mai perché un partito le elezioni il governo sono le possibili conseguenze di un'esistenza della realtà non ne sono il presupposto e forse più profondamente perché e sono parole di Simon Veil un partito occupato nella conquista o nella conservazione del potere governativo non può discernere nelle grida delle persone a cui viene fatto del male altro che rumore non doveva essere stato facile per Reiklin scrivere non illudetevi amici che il problema sia chi comanda non era facile perché lungo una vita egli aveva coltivato il ruolo di consigliere del principe cioè dei segretari del partito pubblicava con orgoglio ma con fastidio crescente lo si legge nel libro per la loro nel frattempo conclamata inutilità le analisi e i consigli che gli erano stati richiesti dai leader che si erano succeduti alla guida del partito in utilità non intrinseca in utilità per il fatto che non venivano letti o seguiti in un lungo servizio che era culminato nella chiamata a guidare il gruppo di saggi che avrebbe steso la carta dei valori del nascente partito democratico ma di fronte al fatto che il PD sembrava venuto su precisamente senza valori che non fossero quelli della corsa al potere della sua slabbrata classe dirigente reichlin prende atto che non è più possibile fare il consigliere del principe perché il principe è sordo ottuso incapace di capire il principe non c'è più e quando se ne rende conto il consigliere non tace non si ritira in buon ordine ma ragiona scrive prende la parola esattamente su questo vuoto e sul modo di superarlo l'eclissi della sinistra trova il reichlin un testimone onesto per nulla reticente un intellettuale che sta al suo vero posto di combattimento indicando a tutti una via d'uscita potrà sembrarvi strano che su questi sentieri potrà sembrarvi scusate che su questi sentieri vi abbia condotti lontanissimo dal pensiero del comunista e alto dirigente di partito ma è a reichlin che appartiene questa frase del 2015 l'egemonia della sinistra si ricostruisce mettendo al centro la persona umana e la sua liberazione sono parole credo decisive qua reichlin andava al punto essenziale e lo faceva tornando alla cultura della costituzione in cui comunisti socialisti laici e cattolici convergevano esattamente sull'idea concreta di persona umana quello su cui è costruito l'articolo 3 cardine e culmine del progetto costituzionale dare a ogni uomo la dignità di uomo questa sintetica espressione attraverso la quale Piero Calamandrei spiega ai giovani parlando nel 55 all'umanitaria di Milano il progetto politico della costituzione c'è tutto intero il manifesto il programma della sinistra di cui credo anche oggi abbiamo bisogno ed è esattamente quello che dice reichlin la fine dell'articolo sul no al referendum passa con una chiusura sorpresa straordinariamente coinvolgente dalle considerazioni astratte su costituzione e sistema politico a un piano per così dire impresa diretta lo cito mi hanno commosso le facce di quel popolo meraviglioso che è apparso sugli schermi delle televisioni tra le macerie del terremoto perfino commovente nella sua forza d'animo nel sentimento di sé della sua terra nel suo slancio solidale era un modo di dire che il discorso sulla persona umana non era una petizione di principio appunto astratto ma che gli proponeva invece di coltivare condividere diffondere un senso della giustizia concretissimo e cioè che non si arresti alle dichiarazioni di principio ma che la viva nei fatti di fronte a ogni essere umano in carne ed ossa ecco un passante scrive ancora Simone Weil a lunghe braccia occhi celesti una mente attraversata da pensieri che ignoro ma che forse sono mediocri ciò che per me è sacro non è la sua persona nella persona umana che è in lui ma è lui lui nella sua interezza braccia occhi pensieri tutto è naturalmente un'idea diversa della politica ed è un'idea che per me ho profondamente la stagione della resistenza in cui Reiklin si era formato per poi venire tradita dalla politica politicata dei grandi politici di professione tutti immersi nel gioco del potere una politica capace di fare scorrere il sangue nelle vene quella di cui scriveva per esempio Carlo Levi nell'orologio un libro magnifico e dimenticato tutto dedicato alla crisi del governo Parri il governo della resistenza e all'avvento del governo di sistema in un passo chiave di quel libro Levi oppone ai tatticismi di due giovani politici che stanno per prendere il potere l'idea e direi il sentimento della politica di Parri ne cito un breve brano mi esponevano questi giovani politici i loro progetti i passi che avevano fatto le manovre a cui ci si doveva opporre le intenzioni nascoste dei capi gli interessi che si celavano sotto le manovre insomma la vita di partito e tutto questo mi pareva che si svolgesse in quel cielo nel quale anch'io forse talvolta mi illudevo di trovarmi popolato di strani uccelli lotta tra loro nell'atmosfera solitaria da quella altezza vertiginosa di politici di professione non vedevano la terra che come un fumo lontano e come avrebbero potuto distinguere in quel fumo a quella distanza i visi degli uomini e delle donne che si muovevano nelle città che zappavano i campi che lavoravano negli uffici e nelle fabbriche che si disputavano il denaro che mangiavano che facevano all'amore come avrebbero potuto di lassù vedere la faccia di Teresa dietro il suo banco sull'angolo della strada che vendeva sigarette di contrabbando e i geloni delle sue mani al primo freddo dell'inverno il presidente invece il presidente caduto non volava in quel cielo non voltava neppure gli occhi a guardarlo ma camminava sulla piccola terra e non sapeva e non voleva vedere altro che i geloni di Teresa il viso di Teresa e le facce e le mani di tutti quelli che incontrava sulla sua strada e si fermava a parlare con loro dimenticando ogni altra cosa e piangendo le loro lacrime che cosa si poteva fare? come si potevano mettere insieme cose così disparate? gli uccelli cioè la politica del partito il presidente e Teresa come si sarebbe potuto risolvere quella crisi che era assai di più che un cambiamento di ministero ma il segno della presenza di cose senza comunicazione di tempi diversi reciprocamente incomprensibili dice Levi mi veniva in mente il libro di aritmetica delle scuole elementari che affermava ma questa affermazione né allora quando ero bambino né poi mai mi riuscì del tutto persuasiva che non si possono sommare beni di diversa natura che non si può dire per esempio cinque pagnotte di pane più tre rose cosa fanno? non fanno niente secondo quel venerabile testo alla fine della sua vita Reiklin si trova d'accordo con Levi i volti degli italiani del terremoto si pongono in drammatica alternativa al discorso del potere sul potere che aveva portato il referendum Reiklin non ci sta rovescia il tavolo in nome di quest'altra politica così lontana da quella che aveva conosciuto lungo una vita dopo l'esperienza della resistenza la reciproca incomprensibilità tra le lotte quotidiane diffuse della democrazia di ogni giorno e la politica del governo è ancora oggi alla base dello scollamento tra la sinistra che esiste e resiste per le strade del paese e la sua rappresentanza politica quello scollamento non è solo un problema da risolvere è la chiave per comprendere cosa coltivare dove cercare in cosa sperare in questa ricerca io ma credo di non essere il solo sento profondamente vicino Alfredo Reiklin e mi pare che dalle sue ultime pagine egli ci sussurri le stesse parole di Jaime Pintor così terribilmente adatte al nostro tempo oggi in nessuna nazione civile il distacco tra le possibilità vitali e la condizione attuale è così grande tocca a noi di colmare questo distacco e di dichiarare lo stato d'emergenza grazie adesso Gianni Cuperlo grazie grazie naturalmente se io fossi un uomo coraggioso dovrei raccogliere la provocazione di Lucia abbandonare i miei appuntini e intrattenervi splendidamente a braccio cosa che non farò prima di tutto perché non sono un uomo particolarmente coraggioso e poi perché sarebbe uno sciupio avendo preparato gli appunti e poi perché sento anch'io un po' di emozione nel parlare questo pomeriggio qui con voi di una tra le figure più autorevoli della sinistra italiana e della sua vicenda storica nel corso di parecchi decenni e poi non lo posso fare anche per una punta di imbarazzo scorgendo la bellissima e ricca platea che sta qui ad ascoltarci perché Tommaso ti dico una cosa che Lucia sa però è giusto che tu la sappia lo dico per quel tanto di conoscenza che ho di alcune delle personalità prestigiose che siedono di fronte a noi e tu devi sapere che qualunque cosa noi diciamo diremo abbiamo detto ciascuno di loro starà pensando che al posto nostro avrebbe detto delle cose molto più intelligenti di noi ma questa è la ma questa è la bellezza è uno degli aspetti più belli e più e più vivi della sinistra italiana io l'ho sempre amata la sinistra anche per queste ragioni e quindi guardate seguendo un po' la traccia delle cose che volevo provare a raccontare questa sera se io dovessi trovare una frase una citazione di Alfredo qui alcune sono già state fatte che ne descriva la profondità e in qualche modo ne riassuma il percorso di vita io sceglierei un passo del silenzio dei comunisti e il passo è questo virgolette noi noi gli occidentali gli illuministi i laici non dovremmo domandarci come mai quando la religione colonizza ogni altro campo della vita umana la chiamiamo teocrazia quando la politica colonizza ogni altro campo della vita umana lo chiamiamo assolutismo mentre se la legge del denaro tenta di colonizzare ogni altro campo della vita umana questa noi la chiamiamo libertà e non è soltanto dal mio punto di vista l'eleganza incredibile dello stile perché in questo Reiklin riversava sempre intendo sia nella dimensione pubblica che nella sfera privata una cura e un'attenzione rigorose ed era questo lo posso dire per esperienza diretta un rigore che facilmente metteva in soggezione l'interlocutore soprattutto se è di qualche anno più più giovane ma al di là del modo raffinato e abbastanza unico di modulare le parole questa frase contiene assieme la cultura e la radicalità che Alfredo ha combinato attraverso le diverse stagioni anche molto differenti l'una dall'altra che lo hanno visto protagonista e quella frase è quasi in coda a questo bellissimo volume curato da Mariuccia Salvati che raccoglie gli interventi di quella giornata seminariale è un volume ricchissimo pieno di spunti anche perché ha la caratteristica di fondere contributi diversi alcuni sono più agganciati ad una stagione o una pagina singolari il partito romano di Natoli la Puglia di Beppe la rinascita di Paolo Franchi gli anni 90 nella ricostruzione di Sorgonà e quelli di Piombo che sono affrontati e descritti da Germano Taviani però ci sono anche nel saggio nel libro delle riflessioni più strategiche più sistemiche sull'economia sull'Europa sul legame tra il corso il destino delle democrazie e i processi del mondo globale sono gli scritti di Ciocca Toniolo il presidente Amato di Salvatore Biasco e poi ci sono le testimonianze così vengono proprio chiamate nell'indice che sono segnate da un tratto più personale da quella di Macaluso Petruccioli Enzo Visco che è qui seduto le considerazioni di Massimo D'Alema legate alla stagione ultima e il percorso di italiani europei e poi quella più intima di Luciana che è stata già accennata con la perla aneddotica davvero una perla aneddotica sulla redazione dell'unità che dinanzi alla sala parto dibatte col direttore del giornale il rapporto Khrushchev in un contesto che non era propriamente quello più pertinente per un anno fino al racconto che è stato ben ripreso da Tommaso a modo suo poetico ma non poteva essere diversamente di Franco Mercualdi che qui alla mia destra sull'Oriccio e la Volpe accorona le pagine di Roberta sul silenzio dei comunisti è un indice di cose diverse di contributi diversi ma cosa esce alla fine da questo impasto da questo molto semplicemente io direi che uscirne in modo limpido è il titolo alla fine del libro a volte tu finisci un libro e dici ma io ho dato un titolo diverso a questo saggio invece alla fine scori questi 22 contributi diversi e torni alla copertina e dici ma il titolo era implicito nello scorrere di queste pagine una vita perché è la sintesi più completa che una raccolta come questa poteva darsi e lo è perché quel termine condensa tutto il peso il peso nel bene nel male della politica nel suo impasto con sentimenti passioni e naturalmente anche vittorie e sconfitte di una biografia che è certamente la biografia prestigiosa autorevolissima di un singolo di una singola figura personalità ma al fondo è anche un grande affresco collettivo e come tale va inteso va interpretato e va apprezzato e del resto se pensiamo a quella generazione di donne uomini che ha vissuto l'esperienza del regime della dittatura il fascismo qui è stato rievocato Jaime Pintore e poi della liberazione non la definirei neppure una novità in sé ecco al fondo quel racconto di formazione scritto da Mendola esattamente a metà degli anni 70 era credo il 76 si titolava una scelta di vita e per molti ragazzi all'epoca fu una lettura formativa e a dirla tutta una vita è un titolo che potrebbe adattarsi bene ad una raccolta di memorie per più di qualcuno che è seduto in questo momento in questa sala la verità è che Alfredo Reiklin sino all'ultimo è stato interamente compreso nella dimensione di una parte e sino all'ultimo aveva l'atteggiamento non credo che fosse un vezzo di autodefinirsi quando già il Partito Democratico era ben nato e stava crescendo di autodefinirsi un comunista italiano e quello è stato un partito Lucia naturalmente posso sbagliare qui c'è chi ne sa più di me però è stato un partito che ha conosciuto i suoi riti che ha convissuto con i suoi miti ma non è stato un partito straniato dalla storia viva del paese dalla storia in atto come a volte Alfredo amava dire quella forza può certamente in alcuni momenti avere divorziato dalla realtà dalla realtà per come andava configurandosi evolvendo trasformandosi però io penso che se ha letto l'urto di eventi che avrebbero sconvolto e scombinato altre culture politiche meno attrezzate è stato anche perché pure avendo talvolta divorziato dalla realtà non ha mai divorziato dal suo popolo o da una parte larga del suo popolo e questo è stato un elemento di forza per Alfredo è stato un elemento costante della sua vita sino per capirci all'ultimo articolo dettato all'unità pochi giorni prima di andarsene accompagnato da quel titolo ammonimento non lasciamo la sinistra sotto le macerie che poi è stata l'ansia costante che lo ha accompagnato nel corso di quella lunga stagione iniziata l'indomani dell'89 e della fine del partito comunista al tempo della svolta la mia conoscenza dell'uomo dell'intellettuale del capo politico capo in accezione nobile perché giustamente Tommaso contesta l'uso era assai meno profonda ma ascoltandolo fin da allora le prime occasioni furono per me nella direzione del PC io vi partecipavo come segretario dei giovani comunisti e lui era un leader affermato ovviamente autorevolissimo le prime occasioni furono nella direzione del partito comunista quando gli sentì evocare la formula sull'economia di carta che si mangia l'economia reale che poi divenne una costante più volte ripresa dicevo ascoltandolo e leggendolo l'impressione per molti di noi fu da subito quella di una figura meno di altre molto meno di altre interessata alla questione del nome che pure aveva una rilevanza non banale e molto più coinvolta nel bisogno di rinnovare alla radice la cultura di quella sinistra che si lasciava alle spalle la grandezza e le tragedie del novecento del secolo breve e in questo senso anche l'uso ripetuto di alcune sintesi formule quel riferirsi ad un cambiamento epocale un collasso di sistema una frontiera dell'innovazione destinata a mutare le forme della conoscenza del lavoro della produttività o il venire in campo di una crisi del capitalismo per come lo avevamo conosciuto io penso allo scambio che viene rievocato da Pierluigi Ciocca nel testo sul destino di un capitalismo che cambiava per mutare la tesi di Reiklin o per rimanere uguale a sé la tesi di Ciocca la convinzione di Ciocca dicevo l'altezza di questi riferimenti di queste sintesi che avevano sempre un chedi suggestivo anche nella loro formulazione non erano mai non era mai quest'altezza nel suo caso una soluzione retorica per eludere la realtà per aggirare gli ostacoli che vedeva Ben nitidi della realtà non era il suo modo di parlare d'altro o gettare la palla lunga per usare la metafora del calcio era piuttosto per come l'ho intesa io il modo di aggredire la realtà che lui utilizzava il suo modo di approcciarsi a quella realtà complessa in un riscatto o un primato della politica che lo portava che lo portava ad avere grande rispetto nei confronti della dottrina economica qui ci sono anche degli autorevoli esponenti di quella dottrina rispetto che però era condito da altrettanta diffidenza e talvolta ritrosia verso i suoi sacerdoti soprattutto se accecati da un eccesso di dogmatismo che lui contestava ed era sempre quell'ansia di complessità che lo spingeva ad una insofferenza di fondo nei confronti della miseria di tante di troppe beghe tipiche di un ceto politico anche a sinistra consegnato ad una perdita crescente di ancoraggi ideali di ancoraggi culturali in questo c'era una certa dose di insofferenza di critica che ci veniva riversata giustamente addosso e della quale ci si faceva scarsamente carico e da questo punto di vista permettetemi solo questo riferimento io penso ho trovato posso sbagliare la critica di Emanuele Macaluso una delle critiche contenute nella sua testimonianza segnata da un eccesso di severità non parlo della sottovalutazione del ruolo di Longo anche come eccesso del togliattismo di Reiklin perché su questo non so qui ci sono professori maestri io parlo della critica rivolta ad un eccesso di affinità col segretario di turno che Macaluso imputa al convincimento illusorio di poter introdurre in quei partiti nelle loro successive declinazioni una quota almeno della concezione della politica del partito che aveva contrassegnato togliati ecco per il pochissimo che vale veramente molto poco una memoria diretta fatta di conversazioni anche frequenti nel corso degli anni e soprattutto dell'ultimo decennio io penso che e questo direi a Macaluso io penso che in Alfredo vi fosse piena e profonda coscienza dei limiti di quella politica e di quei partiti ma nel suo rigore intellettuale lui si ostinava a non subire quella come la deriva come la spiaggia ultima della sinistra quindi non era un atteggiamento compiacente non avrebbe avuto alcuna ragione alcun interesse alcun motivo era la consapevolezza della crisi di quei partiti di quelle forze della loro cultura e la necessità però di incalzarli in qualche misura non subire questa come una condizione inevitabile una deriva conclusiva guardate non perché vada di moda a citarlo ma c'è una frase di Bergoglio credo sia nella Evangelii Gaudium che dice virgolette compito della politica è aprire processi non occupare spazi chiuse le virgolette che a me pare si possa adattare un po' come un guanto alle ultime ricerche e fatiche di questi anni che stiamo commentando e aggiungo su questo che la stessa gestione faziosa di quella sua intuizione provocazione sul partito della nazione segnò in modo abbastanza clamoroso lo scarto tra la complessità poi potevi condividere o meno la complessità e la ricchezza di un pensiero di un'elaborazione di una riflessione e la necessità molto più prosaica di piegarne l'utilizzo ai fini di una sciocca propaganda contingente in fondo anche quella formula nasceva dalla gravità della crisi che investiva la società italiana non solo quella italiana e spingeva la sinistra a liberarsi da qualche subalternità io penso si possa dire da molte subalternità verso un impianto tardo liberista che aveva moltiplicato le diseguaglianze certo non su scala globale ma dentro il corpo dentro la struttura delle nostre democrazie e non a caso credo il timore per il destino della democrazia nel cuore dell'Occidente è stato il vero assillo dei suoi ultimi anni e si legava ad una convinzione che il patto politico e sociale che delle costituzioni liberali della seconda metà del Novecento era stato il fondamento di fronte agli accadimenti che investivano la realtà dell'Occidente e delle sue società dovesse per forza rinnovarsi quel patto rigenerarsi in una azione di soggetti storici collettivi e la sua attenzione è stata ricordata da Massimo all'inizio ai giovanissimi non aveva nulla di paternalistico ma era davvero anche quello un po' il modo di interpretare il mondo per come stava cambiando insomma non potevano essere solamente quante volte l'avete sentito ripetere le ingegnerie sulle leggi elettorali o movimenti astratti e delitari a restituire vigore credibilità ossatura a istituzioni logorate nelle loro fondamenta io penso che nel dirlo e nell'argomentarlo lui avesse allora perfettamente ragione questa questa idea di una politica impotente la citazione che Massimo ha ripreso all'inizio con i leader di turno relegati a impersonare il ruolo loro assegnato nei talk della televisione mentre il potere vero si trasferiva altrove per un uomo con la sua storia la sua formazione doveva apparirgli credo penso come la peggiore legge del contrapasso per un'intera e nobile tradizione culturale di cui non negava i limiti ripeto ma che non voleva rinunciare a misurare con la complessità del tempo storico che aveva davanti insomma chiudo come sappiamo la parabola umana politica di Alfredo si interrompe il 21 marzo di tre anni fa vuol dire ne ha parlato Tommaso qui che ha fatto in tempo a vivere la sconfitta del referendum del 2016 si espresse e è stato rammentato pubblicamente per il no mentre gli è stata risparmiata la sconfitta storica del 4 marzo 2018 che è il peggiore risultato nella storia della sinistra italiana nel suo complesso dopo le elezioni del 1924 quelle della legge acerbo e forse oggi se fosse qui come noi avrebbe respirato di sollievo dopo che l'Emilia ha respinto l'attacco scomposto della destra e però immagino immagino soltanto che avrebbe vissuto con qualche angoscia la leggerezza la rimozione delle cause di una sconfitta e di una difficoltà che permane nella sinistra non solo italiana nel dare di questo tempo dei suoi conflitti delle sue potenzialità un'altura adeguata e attrezzata però qui qui c'è tutta davvero intera la responsabilità nostra di chi è venuto dopo e ha giustificato la fragilità fino all'inconsistenza delle culture politiche sorte sulle ceneri del vecchio secolo con motivazioni davvero insopportabilmente superficiali e talvolta risibili sino al paradosso di un primato della comunicazione slegato da una chiare conoscibile identità qui penso a come la riscoperta del termine di capo politico sia proceduta di pari passo con lo stravolgimento del concetto del significato della parola leadership e leader 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 politico non più associato ad una strategia una visione di contenuti valori di alleanze sociali non solo proiettata sul tempo medio ma la leadership come l'abilità a farsi interprete è megafono del sentimento diffuso il vero leader come colui che parla il linguaggio della gente una sciagura una sciagura ma è andata così allora anche per questo voglio dire che se ci sentiamo orfani di una personalità come quella di Alfredo è perché dopo di lui la sinistra non ha mostrato una capacità adeguata di reazione ha lasciato che si consumasse parlo della mia forza politica una scalata ostile al proprio interno ha proseguito nell'arte del dividersi e ha pensato di salvarsi con un trasformismo abbastanza penoso del suo modesto e sempre più incolto ceto politico per l'insieme di queste ragioni verrebbe da dire che adesso siamo di fronte a un passaggio decisivo e la cronaca le piazze di questi mesi piazze differenti sono un segnale importante io penso che la sola strada possibile tanto più dopo il voto di domenica sia aprirsi allargarsi includere il molto di buono che vive fuori dalle sigle attuali a partire dalla più grande ma tutto questo avrebbe senso solamente in ragione di una onesta cessione di potere della quale però tuttora non si coglie traccia da parte di una nomenclatura rubo l'espressione romano prodi che tende a riprodurre i meccanismi della cooptazione sotto le mentite spoglie della trasparenza o quando serve delle primarie voi mi perdonerete questi rapidissimi accenni all'attualità però penso sia anche un modo di rispettare la figura dell'uomo che stiamo ricordando questa sera quello che so o che penso di sapere e che mi permetto di condividere qui con voi è che se io avessi ancora la fortuna di salire di alampicarmi con la mia vespa lì lassù inviadandolo e poi di scendere a trovarlo seduto in quella poltrona con sul divano di fianco i giornali sparsi già letti di prima mattina e un pacco di volumi e di saggi in attesa di essere affrontati io ad Alfredo direi che il partito democratico per come l'abbiamo pensato e voluto anche con lui oggi non basta più e che sarebbe tempo di pensare ad un campo molto più largo ma nel segno e nel solco di parole di coerenze che restituiscano al valore dello stare a sinistra la funzione che oggi manca io non so dire naturalmente cosa potrebbe rispondermi ma tendo a credere che fosse solo per ragioni statistiche qualunque sua risposta avrebbe comunque il potere di convincermi e allora forse in conclusione nel così nel raccontare questo bel libro la domanda è se sia giusto ricordare Reiklin con un tratto di fiducia verso il dopo di inguaribile e incorregibile ottimismo verso il dopo con il ragionevole timore di non essere ancora fuori dalla lunga notte la risposta non può che essere personale di ciascuno di noi di ciascuno di voi a noi al più resta il richiamo a quella formula perenne che nei passaggi complicati non rinuncia a combinare il pessimismo dell'intelligenza o della ragione e l'ottimismo della volontà in fondo è quello che Alfredo ha fatto sempre e che dalla sua biografia consente oggi a noi di trarre non soltanto una trama di fatti di avvenimenti per quanto significativi ma il racconto di una vita nel senso più alto e completo del termine questo è un valore una dote che gli dobbiamo riconoscere con il sentimento e il senso del dopo ci sono state altre figure che hanno avuto la forza di combinare la cultura e la politica il pensiero l'elaborazione e anche il dolore del conflitto politico in modo tale da restituirci intatto il valore di che cos'è la politica beh per correggimi se la citazione è sbagliata ma 1926 novembre c'è una lettera che Antonio Gramsci all'indomani dell'arresto rivolge alla sua padrona di casa a Roma e la lettera contiene tre richieste chiede il neo detenuto Gramsci se è possibile ricevere la grammatica tedesca che stava sullo scaffale all'ingresso il breviario di linguistica nell'armadio di fronte al letto e gratissimo le sarei se mi procurasse una copia della divina commedia di poco prezzo perché la mia l'avevo imprestata e quindi un uomo che viene privato della libertà un protagonista della lotta a quel regime il cervello più brillante e straordinario che la sinistra esprimeva nel momento in cui la libertà gli viene negata chiede questo una grammatica tedesca un breviario di linguistica una divina commedia e il fatto che noi viviamo un tempo una stagione dove la cultura viene intesa ai massimi livelli dell'espressione della direzione politica come una zavorra come un peso ci fa riflettere sulla figura di Alfredo che ha difeso la politica come una cultura mai risolta nel suo legame col mondo e questa è la sua forza la sua importanza noi abbiamo discusso per una settimana di un campanello suonato senza altro criterio che non fosse quello di una scriteriata ignoranza e io voglio pensare mi piace pensare che la lettura di questo libro potrebbe far comprendere anche a chi oggi milita lontanissimo da dove Alfredo ha trascorso interamente la sua esistenza che il tema fondamentale della politica ieri come ora come domani non è stato mai solo il gesto ma il pensare prima dell'agire quel pensare come un obbligo resta un'eredità unica e preziosa che abbiamo ricevuto da questo nostro amico maestro compagno e di questo credo dobbiamo esserli molto grati grazie prima di invitare Manuela Mandracchia che ringrazio molto a leggere i brani da Il silenzio dei comunisti voglio ringraziare tutti i contributori che hanno permesso di realizzare questo volume molti sono qui e come dire credo che in tutti i nostri interventi abbiamo provato a ricostruire questo sforzo e tenere insieme quella che è una lettura delle molte facce ma sicuramente di una grande coerenza intellettuale che Alfredo Reichen ha sempre con forza difeso darò adesso la parola a Manuela Mandracchia Vittorio confesso che le tue domande mi hanno un po' spaventato perché Vittorio ciò che più mi pesa non è il silenzio sul passato ma sul presente perché il presente in cui siamo immersi rappresenta una vera e propria cesura storica trattandosi di un cambiamento molto profondo non solo delle cose ma delle menti nonché di tutte quelle forme cioè lo stato nazione le classi l'industrialismo all'interno del quale la politica è stata pensata e su cui basi la sinistra ha elaborato la sua identità storica ha organizzato le sue lotte questo è il problema io parlo della necessità di un pensiero un nuovo pensiero capace di leggere il mondo in cui siamo immersi un pensiero capace di restituire alla sinistra il sentimento di una funzione storica che al tempo stesso sappia dare alla politica di oggi una nuova dimensione come si può fare una grande sinistra senza una grande visione la ragione vera della crisi dei partiti non sta nella pochezza degli uomini quanto nel fatto che la politica non è più il luogo dove si prendono le grandi decisioni le scelte vere il comando stanno nelle mani di un potere sovranazionale i cui strumenti sono globali e che si chiamano finanza controllo delle tecnologie produzione delle informazioni e delle conoscenze e i sogni le speranze i bisogni degli uomini e delle donne non contano niente come schierarsi e agire nel vivo di quello che è sempre più il centro del conflitto moderno e che a me sembra consistere nel divario crescente addirittura impressionante tra la potenza e il potere dove per potenza intendo la potenza dei mercati finanziari delle imprese globali comprese quelle che producono e controllano l'immaginario collettivo cioè i nuovi mercati del bisogno materiali e anche la potenza della scienza arrivata alla capacità di clonare gli esseri viventi per non parlare della potenza dei media e dove per potere intendo appunto la politica la polis l'interesse generale cioè gli strumenti le istituzioni attraverso le quali gli uomini non solo le classi sfruttate ma gli individui difendono i loro diritti come il diritto a non essere esclusi dall'esercizio della cittadinanza democratica però io non sono affatto pessimista se è vero che la potenza tecnologica ha tanto sopravanzato il nostro potere politico il nostro modo di pensare se è vero che prevedere gli effetti delle grandi scelte economiche e scientifiche diventa sempre più difficile se è vero che ciò mette fuori gioco le vecchie idee di progresso lineare perché non possiamo più affidarci a percorsi prestabiliti e guardare al futuro con quelle certezze che furono la forza e il fondamento della sinistra se è vero che lo sviluppo storico ha creato sempre più differenze interdipendenze complessità e incertezza allora allora è altrettanto vero che nell'incertezza delle previsioni l'unica l'unica certezza diventa la volontà dell'uomo è quindi necessario mettere in campo non solo idee ma strumenti politici forti e istituzioni forti che siano in grado di governare questo mondo nuovo che questo io penso siano di più non tanto strumenti di potere quanto strumenti di lotta per nuovi bisogni e nuovi beni di libertà e di giustizia quello che è accaduto in questi anni è molto grave la politica la polis la capacità del commerciante dell'operaio del professore di guardare al di là del suo interesse immediato per farsi cittadino e pensare all'interesse generale è stata ridotta a forza subalterna di un sistema economico e finanziario globale all'interno di questo sistema la politica è diventata nulla più che un sottosistema specializzato la cui funzione si riduce a costruire quel minimo di integrazione politica ideale che è necessaria per impedire la disintegrazione dello spazio sociale come dice quel tale è cambiata la divisione dei compiti i mercati governano i tecnici amministrano e i politici vanno in televisione la scelta è tra un mondo di possibilità e un mondo di fallimenti proviamo allora a farla questa scelta intanto intanto esistono queste possibilità io credo di sì almeno potenzialmente sì cerchiamo di non sbagliare esiste una ragione fondamentale per cui una nuova sinistra diventa essenziale nell'era globale io la vedo in questo nel fatto che non è vero che con la fine del comunismo è finita la storia che siano cioè finite le alternative possibili a questo mondo attuale già lo capisco lo scetticismo quali strumenti collettivi possiamo inventare se siamo in presenza del fatto ormai ineludibile che l'epicentro della modernizzazione occidentale è diventato il processo di individualizzazione cioè l'affrancamento dell'individuo dalle vecchie appartenenze dai vecchi vincoli sociali stiamo attenti sono le cose che ci chiedono un nuovo soggetto politico forte in grado di guidare società come queste valorizzando tutta la potenzialità di progresso che c'è in esse altro che fine della politica è proprio a questo punto del trionfo dell'individuo che si scopre che il mercato non basta è necessario che la politica ritrovi la forza di orientare lo sviluppo e di non subire l'egemonia di un vecchio pensiero liberista che ha fatto molte vittime anche a sinistra nel mondo delle interdipendenze non si può essere liberi da soli senza gli altri o contro gli altri ma solo in dialogo dialogo con gli altri ecco perché Vittorio Miriam io dico che la libertà può tornare ad essere la bandiera della sinistra la libertà di poter realizzare le proprie vocazioni le proprie capacità e a me sembra che solo in questo modo il mondo dei semplici possa incontrare il mondo degli intellettuali e questo perché il grande antico tema dell'uguaglianza fa tutt'uno con quello della conoscenza non la conoscenza per i pochi ma il diritto di tutti di accedere a quel fondamentale bene pubblico che è la conoscenza la scuola la cultura nel mondo moderno la forza dei dominanti rispetto ai dominati non sta tanto nelle armi o nelle restrizioni delle libertà personali quanto nell'estrema concentrazione di quella ricchezza immateriale che consiste appunto nel controllo della conoscenza quella forma fondamentale del potere che si poggia sul definire che cos'è la realtà perché dopo tutto i monopoli della conoscenza questo rappresentano la capacità di imporre una visione globale del mondo e per questo mezzo di controllare l'azione umana è vero da un lato l'avvento dell'economia della conoscenza cresce potenzialmente la libertà dell'individuo in quanto lo libera dalla fatica fisica lo mette sempre più in grado di produrre intelligenza nonché di utilizzare nel suo lavoro sempre più sapere ma dall'altro lato gli individui essendo spogliati dai vecchi diritti di cittadinanza resi soli in società che perdono l'ossatura dei vecchi valori delle vecchie culture identitarie cessano di essere persone per trasformarsi in maschere dietro alle quali non ci sono uomini e donne ognuno diversi dagli altri quindi reali padroni di sé ma solo individui la cui personalità si misura con un solo medro il denaro viene da chiedersi se non stiamo assistendo a una sorta di morte della persona insomma siamo capaci di ridare alla moderna questione sociale il senso di una lotta per una società che restituisce alle persone ai diversi ai bianchi come ai neri alla libertà alla creatività umana a quel potere dei poteri che consiste nella coscienza della realtà e nel significato della loro vita e in autonomia visione del mondo questa è la mia grande speranza noi noi gli occidentali gli illuministi i laici non dovremmo domandarci come mai quando la religione colonizza ogni altro campo della vita umana la chiamiamo teocrazia e quando la politica colonizza ogni altro campo della vita umana lo chiamiamo assolutismo mentre se la legge del denaro tenta di colonizzare ogni altro campo della vita umana questo noi la chiamiamo libertà ecco dunque perché Vittorio dopo tanto silenzio è giusto che la sinistra riprenda la parola e io mi fermo qui non con la certezza ma questo sì con la ragionevole speranza che il ruolo della sinistra torni a essere necessario grazie allora grazie Manuela Mandracchia grazie a tutti voi per aver partecipato a questa nostra presentazione e buona serata io so perché gli stessi chiedi grazie a tutti